Alla vigilia della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la biblioteca oliveriana di Pesaro mette una sedia rossa nella sua sala lettura. Un posto occupato, un posto che poteva essere di una donna che non c'è più, strappata la vita da atti di violenza di genere. È la decima sedia rossa simbolica che il comune di Pesaro colloca in altrettanti luoghi pubblici cittadini. Questa volta viene messa in un luogo dedicato allo studio e alla riflessione, così come alla riflessione dovrà perennemente indurre quel posto occupato. Abbiamo pensato all'istituzione del posto occupato nelle nostre stanze di lettura, proprio perché volevamo lasciare un messaggio e lanciare soprattutto un segno di solidarietà e di riflessione nei confronti di tutti coloro che purtroppo sono vittime della violenza di genere e che purtroppo non potranno più occupare nessuna sedia in nessun posto, non potranno più andare a teatro, non potranno più assistere a una proiezione di un film e non potranno neanche più venire in biblioteca. Ma questo segno, il segno della sedia rossa appunto nelle nostre sale di lettura dovrà essere un momento di riflessione e soprattutto di memoria che dovrà continuare sempre nel corso di tutto l'anno e di tutti i giorni. Il primo posto occupato a Pesaro l'ha portato l'Associazione Percorso Donna che io ho l'onore di presiedere nel 2019 all'interno del Festival Percorsi. È una campagna di sensibilizzazione ideata da Marianne Daloro, è partita dal piccolo paese dove lei vive, Rometta, un paesino nella provincia di Messina e il posto occupato sta a significare l'assenza di una donna che non c'è più, una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto occupare quel posto. Può essere un posto in un autobus, in un teatro, in un cinema, in questo caso è stato messo in una biblioteca ed è un posto che fa sì che tutte le persone che entrino in questo luogo si confrontino con quell'assenza, un'assenza che ha un peso e serve a ricordare 365 giorni l'anno quella donna che oggi non c'è più.